Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. La Fondazione Giovanni Paolo II ha revocato i 45 licenziamenti che sarebbero dovuti scattare proprio oggi. Il risultato dell'intesa raggiunta in estremis tra i vertici dell'ex cattolica e i sindacati, grazie anche alla mediazione della regione. Anna Maria Di Matteo I 45 licenziamenti che sarebbero dovuti scattare proprio oggi all'ex cattolica di Campobasso sono stati revocati ed alcuni degli infermieri che avevano già ricevuto la lettera di congedo sono regolarmente in corsia al proprio posto di lavoro. Dopo mesi di trattative tra la Fondazione e i sindacati, l'intesa è stata faticosamente raggiunta in estremis e sottoscritta al termine dell'incontro che si è svolto nella sede dell'assessorato al lavoro alla presenza del governatore Frattura, dell'assessore Petraroia e del neodirettore generale alla Sanità La Storia. CGL, CISL, UGL e FIALS hanno firmato l'accordo dal quale si sono dissociati Cobas secondo i quali non offrirebbe precise garanzie. L'intesa prevede la cassa integrazione in deroga per i messi di novembre-dicembre 2013 per i 200 infermieri ed il contributo di solidarietà a carico di tutti i dipendenti della struttura, l'8,88% lordo per il personale infermieristico, il 6% sugli stipendi dei medici che garantiranno due ore lavorative in più alla settimana. Le somme trattenute dalle buste paga saranno restituite a partire dal 1 gennaio 2016. Questi dunque i termini dell'intesa per la quale i sindacati hanno espresso soddisfazione soprattutto alla luce delle difficoltà con cui sono andate avanti le trattative. A dare una svolta alla vertenza, il vertice è convocato dal prefetto di Menna che ha consentito alla fondazione, ai sindacati e alla regione di sedere attorno ad un tavolo per trovare una soluzione che salvaguardasse i 45 posti di lavoro. La soluzione è arrivata grazie dunque anche alla mediazione messa in campo dal governo regionale. Segniamo la ripresa della nostra sanità, ha commentato il presidente Frattura, gettiamo le basi per disegnare una nuova offerta sanitaria nel nostro capoluogo. L'accordo raggiunto è una vittoria di tutti. La nostra firma, concluso il governatore, rafforza la volontà comune di tutelare i lavoratori e garantire ai nostri cittadini un servizio sanitario di qualità. Prosegue il calvario dell'ITR, la più grande azienda tessile molisana. Ci sarebbe un esposto alla procura in cui si parla di centinaia di migliaia di capi spariti dai magazzini di Pettoranello, ma Bianchi è pronto a querelare. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Continua con novità sempre più incalzanti la triste telenovela dell'ITR e diversi fatti nuovi. Cominciamo dalla segnalazione fatta alla procura di Sernia da Massimiliano Scarabeo che parla del trasferimento anomalo di 200.000 capi dal magazzino di Pettoranello. Trasferimento su cui vengono sollevati sospetti. Perché mandar via da Pettoranello tanta merce che potrebbe servire da garanzia per i creditori e per il TFR dei dipendenti, chiede l'assessore. Una domanda a cui risponde a stretto giro di posta Antonio Bianchi, parlando di intollerabili calunnie e preannunciando che in procura ci andrà lui a denunciare sia Scarabeo che chi gli ha dato quelle notizie. Intanto sono stati convocati per lunedì l'Assemblea dei Soci e il Consiglio d'Amministrazione. Si parlera del licenziamento di Manganiello e della sua sostituzione con Giovanni Petrollini, posto che quest'ultimo accetti. Dal suo canto la regione, qui c'è la novità, sempre lunedì potrebbe esercitare la sua opzione per il controllo del 51% della società. Intanto cresce l'allarme sociale a Isernia, quella dell'ITR è una bomba che potrebbe scoppiare travolgendo la già precaria situazione economica del capologo Pentro e il sindaco ne è fortemente preoccupato. Ma intanto mi sembra che la situazione si è complicata ancora di più, insomma. Mi sembra che non si è ancora usciti da una situazione di incertezza totale che negli ultimi giorni è diventata quasi una telenovela. Che cosa si può fare? Io sono ancora di più preoccupato per quelle persone che lavorano lì e per le quali la prossima settimana credo che faremo un incontro giù al Comune perché mi hanno chiesto delle cose alle quali io devo dare risposta, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di avere dei soldi a breve da parte dell'Inps. Che cosa bisogna fare? Il Comune in questo momento noi stiamo alla finestra, stiamo cercando di capire dove si andrà a finire. La notizia che mi è arrivata è che però c'è ancora la possibilità di costituzione di una nuova NUCO che può assorbire una parte di questi dipendenti, insomma. Il numero sinceramente non lo conosco, una parte. Ed è secondo me l'unico modo, avendo ovviamente dei finanziatori esterni, dei soci che oggi non sono ancora segreti probabilmente, per tentare di far ripartire l'azienda. Credo che altre soluzioni non ce ne siano, io immagino che anche la regione è indirizzata in questo senso. Ma sotto, diciamo così, leggi da sotto il patrocinio di Antonio Bianchi o diciamo Antonio Bianchi è passato? No, diciamo superiamo questa fase di Antonio Bianchi, io credo che vada fatta una società nuova con soci diversi, con persone che vogliono assolutamente rilanciare l'azienda e mi auguro insomma che la vicenda della fideossione possa in qualche modo sbloccare la situazione. Vediamo la regione come si comporterà nei prossimi giorni, sperando che non ci siano ulteriori provoche, perché è quello che temo io e che si possa prendere ancora del tempo. Mi auguro che così non vada e che si possa al più presto creare questa nuova società. Stato di agitazione anche per i dipendenti della Molise Dati, proclamato dalle sigle della pubblica amministrazione di CGL e UGL. Da tempo, dicono i rappresentanti sindacali della Molise Dati, è stato sollecitato un intervento della regione, ma fino ad oggi non ci sono stati segnali. Lunedì è stata fissata l'assemblea permanente dei lavoratori. I rappresentanti dell'ACEM hanno incontrato di nuovo i rappresentanti parlamentari molisani per concordare le iniziative da intraprendere per svincolare dal patto di stabilità i fondi per la ricostruzione. Giovanni Minicozzi. Il problema da risolvere è sempre lo stesso, ovvero svincolare dal patto di stabilità i fondi assegnati dalla delibera Cipe del 2011 per finanziare la ricostruzione post-terremoto e per dare un po' di ossigeno alle imprese del settore ormai stremate. I vertici dell'ACEM e una nutrita rappresentanza delle imprese associate hanno incontrato nuovamente i parlamentari molisani per fare il punto della situazione in vista dell'approvazione della legge di stabilità. La situazione delle imprese è drammatica. Io immagino che il Presidente della Regione sa qual è la situazione di queste imprese che hanno fatto i lavori presentati agli stati d'avanzamento ormai da mesi e che continuano a pagare i tassi bancari che sono dei tassi che non si possono più consentire. Noi stiamo facendo tutto il possibile, tenteremo di lavorare anche a un meccanismo pluriennale che consenta a questa Regione di avere tutte le risorse per la ricostruzione fuori dal patto di stabilità, come giusto che sia, come già per gli altri territori nazionali che hanno subito eventi sismici. Dunque l'intera delegazione parlamentare presenterà appositi emendamenti concordati con l'ASCEM alla legge di stabilità. Iniziamo la battaglia parlamentare perché nella legge di stabilità sostanzialmente non c'è nulla che risolve in maniera decisa il problema che il Molise ha, un'emergenza straordinaria. E allora, entro il 7 novembre presenterò gli emendamenti a scalare da una somma minima a una somma più grande per derogare il patto di stabilità e per consentire al Molise di uscire dalle secche in cui è finito. Quale sarà la richiesta minima e qual è quella massima? La minima è quella di utilizzare i 15 milioni che avevano già garantito e quindi di avere la possibilità di fruirne immediatamente. Ma ovviamente chiediamo di più. Lo chiediamo anche all'incontro che avremo con il Presidente del Consiglio Letta giovedì con forza e con determinazione per dire questa è la situazione del Molise e il Molise ora merita una risposta. Soddisfatti i rappresentanti dell'ASCEM che hanno anche proposto iniziative eclatanti per sostenere le richieste dei parlamentari. Un confronto molto costruttivo con le parti politiche regionali sia di destra che di sinistra stia uscendo fuori una linea comune da intraprendere perché c'è un'emergenza che è l'emergenza del Molise. Qualcuno ha proposto di marciare su Roma? Ma è una buona provocazione è una buona provocazione quella di chiedere dimissioni dei nostri politici nel caso in cui uno di questi obiettivi non venisse raggiunto. Vediamo un po'. Resta il fatto che le imprese davvero non ce la fanno più? Resta comunque il fatto che le imprese hanno grandi problemi economici, grandi problemi finanziari. Vediamo se riusciamo a fare squadra affinché questi emendamenti che verranno proposti vengono approvati. Sono state tutte accolte ed ammesse al finanziamento le domande presentate dai comuni per il servizio delle sezioni primavera dell'anno scolastico 2013-2014. Lo rende noto il vicepresidente della giunta regionale Petraroia alla luce delle domande finanziate che hanno richiesto una significativa economia rispetto allo stanziamento iniziale ha dichiarato opportuno procedere ad una riapertura dei termini dell'avviso pubblico che consenta la partecipazione al bando di altri comuni potenzialmente interessati al servizio. Cambiamo argomento. Secondo le stime, 7 milioni di italiani si sono messi in viaggio per il ponte di Ogni Santi di cui 3 milioni dormiranno in casa di parenti e amici avendo fatto il ritorno nei propri centri di origine proprio per la commemorazione dei defunti. La maggior parte però ha anticipato la partenza visto che oggi il traffico sulla A14 è regolare e nessun rallentamento è stato segnalato. Grande afflusso invece a Termoli, al cimitero già da alcuni giorni in attesa della giornata clou che sarà quella di domani. Oggi in tanti hanno fatto la visita ai propri cari diversi fiorai che si sono sistemati lungo le vie d'accesso e in questi due giorni l'amministrazione comunale ha deciso di non far pagare la sosta del parcheggio di fronte al cimitero. E ora andiamo a San Giuliano di Puglia dove per la prima volta i giovani sopravvissuti al crollo della scuola Iovine hanno curato l'animazione della fiaccolata che si è svolta in Paese in occasione della giornata della memoria. Fabrizio Occhionero. Un lungo corteo di luce che si è snodato tra i luoghi simbolo di un evento come un contributo di conoscenza rinnovato di anno in anno tra le strade del Paese è ricostruito la forza della fede e della preghiera nella giornata della memoria San Giuliano di Puglia organizzata per ricordare con il cuore 30 persone che non ci sono più e guardare avanti con consapevolezza per la prima volta l'animazione del cammino della speranza è stata curata dai giovani sopravvissuti al crollo della scuola Iovine oggi loro sono quasi tutti maggiorenni e guidati da padre Enzo Ronzitti hanno preparato delle riflessioni che hanno ripercorso le loro esperienze di vita la fiaccolata è partita dal parco costruito sulle macerie dell'edificio scolastico con un appello simbolico dei bambini e della maestra Carmela Ciniglio per ogni persona chiamata è stata accesa una lampada da una grande fiaccola partita dalla chiesa madre di San Giuliano Martire poi in tanti hanno acceso le altre torce e si sono avviati lungo un percorso che ha toccato la piazza principale del Paese intitolata il 31 ottobre poi alcune strade il palazzetto e il cimitero sette stazioni e un profondo coinvolgimento emotivo lungo il tragitto durante il quale sono stati letti dei passi della Bibbia un pensiero introduttivo e quindi le testimonianze dei ragazzi superstiti da un lato il ricordo degli amici che non ci sono più e dall'altro la consapevolezza che la vita continua ora affrontiamo il presente come tutti i ragazzi della nostra età normalmente alla ricerca della felicità cerchiamo di amare perché la felicità è amore e senza amore non potrà mai esserci la vera felicità un primo momento di incontro e condivisione per tutta la comunità di San Giuliano di Puglia anche in vista del progetto di solidarietà lanciato nei giorni scorsi da Pompeo Barbieri per avviare una raccolta di fondi destinata a realizzare un'opera per i bambini più poveri del mondo come una scuola o un piccolo ospedale Anche le piattaforme devono pagare l'ICI lo ha stabilito la commissione tributaria regionale dopo un ricorso presentato dal comune di Termoli una sentenza storica che ha obbligato l'Edison a versare nelle casse pubbliche 11 milioni di euro soldi che però non potranno essere utilizzati in attesa del giudizio della Cassazione Emanuela Iori Sentenza storica per il comune di Termoli che potrebbe fare giurisprudenza anche per le altre amministrazioni pubbliche visto che la commissione tributaria regionale ha stabilito che la piattaforma Rospomare della Edison si trova in acque territoriali e non internazionali e dunque la società è tenuta a pagare l'imposta comunale sugli immobili in questo caso pari a 11 milioni di euro per le annualità che vanno dal 1999 al 2004 la cifra è il netto che arriverà presto nelle casse comunali visto che la sentenza esecutiva è però di 7 milioni e mezzo di euro 3 milioni e mezzo sono già sfumati per le spese di esecuzione e per quelle della società che ha curato il ricorso ma i soldi per il momento non potranno essere utilizzati soldi che noi stiamo incamerando che però non possiamo utilizzare perché si è in attesa del terzo giudizio cioè quello della Cassazione credo che passeranno anni prima della definizione di questo contenzioso terremo questa somma nelle casse comunali che ci consentirà innanzitutto di non andare più in anticipazione di casse quindi un risparmio notevole per le casse comunali e per di più ci dà in qualche modo tranquillità sui bilanci perché questi erano residui attivi se non ci fosse stata questa sentenza positiva i residui dovevano essere cancellati e quindi ci sarebbe stato uno squilibrio di bilanci il pagamento dell'ex lice è stato richiesto anche per le successive annualità 8 milioni e mezzo di euro escluse le sanzioni dal 2005 al 2009 la commissione tributaria provinciale già si è espressa a favore del comune ma la Edison ha fatto ricorso per il biennio 2010-2012 invece lice ammonta 3 milioni e mezzo stando ai calcoli effettuati dal sindaco il comune arriverà ad avere un potenziale credito di 23 milioni di euro torniamo a Campobasso l'assessore Nicola Cefaratti ha reso noto che sono stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro per un bando pubblico per l'affidamento a privati per la gestione del terminal bus di Campobasso sentiamo Pasquale Di Bello Trasporto pubblico urbano Campobasso cambia strada siamo all'inizio di una nuova stagione dice l'assessore Nicola Cefaratti si riparte dal potenziamento e affidamento a privati del terminal bus pronti e già stanziati 2 milioni e mezzo di euro per il miglioramento dei servizi la modernamento del sito e la sua messa in sicurezza inoltre tra poche settimane approderà in consiglio comunale la delibera che avvierà le procedure per l'affidamento a privati del terminal un bando pubblico che metterà fine a danni di polemiche e recriminazioni per lungo tempo va ricordato il terminal bus è stato un simbolo di mala politica e di cattiva amministrazione bisogna prendere atto ha dichiarato Cefaratti che strutture come quelle del terminal non possono essere gestite direttamente dall'ente pubblico per evidenti questioni di natura economica e per la necessità di affidarle a soggetti in grado di valorizzarle e di garantirne quotidianamente servizi efficienti alla cittadinanza le polemiche sorte nell'ultimo periodo in merito al delicato tema del trasporto locale ha aggiunto l'esponente della giunta di Bartolomeo preoccupano giustamente l'opinione pubblica perché un territorio non può certo prescindere dalla qualità dei servizi e dalla funzionalità delle sue infrastrutture inutile negare che considerato il difficile momento storico in cui viviamo le pubbliche amministrazioni faticano più del solito a trovare soluzioni immediate anche a causa di una carenza di risorse che obbliga gli attuali amministratori a tutti i livelli a ponderare con senso di responsabilità le scelte e a fare affidamento ad una programmazione seria e non improvvisata con il bando pubblico e l'affidamento a privati del terminal ha concluso Cefaratti si avvierà una nuova stagione della mobilità cittadina che consentirà a Campobasso di fare un notevole salto di qualità Ammontano a 30.000 euro i fondi stanziati dalla regione in favore dei commercianti di prodotti ittici per coprire maggiori coste legate all'approvvigionamento del prodotto in seguito alla fermo pesca del 2012 possono accedere contributi i commercianti che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico il bando sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Molise di domani l'agricoltura biodinamica è stata al centro di una tavola rotonda organizzata alla fattoria di Vaira di Petacciato all'evento hanno partecipato numerosi esperti del settore il presidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori Giuseppe Politi vediamo lavorare la terra con saggezza interpretando le leggi della natura seguendo principi universali così a lungo trascurati dall'uomo che nella logica della grande produzione del profitto ha finito per indebolire l'ecosistema scapito anche della qualità dei prodotti è questa la regola principale dell'agricoltura biodinamica un metodo responsabile di sviluppo sostenibile per un settore molto diversificato in cui bisogna salvaguardare il territorio in cui si opera nutrire il suolo per nutrire il pianeta il tema al centro di una tavola rotonda organizzata alla fattoria di Vaira di Petacciato è patrocinata dall'Associazione Nazionale Agricoltura Biologica e dalla Confederazione Italiana Agricoltori se noi vogliamo essere competitivi a livello internazionale non possiamo competere sul prezzo con i paesi del Nord Africa con i cinesi e così via loro produrranno sempre a prezzi più bassi possiamo essere competitivi se riusciamo a salvaguardare la qualità dei nostri prodotti e la biodiversità in questo senso i metodi di produzione più innovativi dal biologico e nuovi al biodinamico sicuramente ci danno ci rappresentano un valore aggiunto che può essere riconosciuto da una fetta importante di consumatori che possono pagare anche questo prodotto all'incontro moderato dal collega Giovanni Di Tota sono intervenuti tra gli altri Anna Benedetti del centro di ricerca sulle relazioni tra pianta e suolo il presidente Anna Bio Federico Marchini e Francesco Riva dell'ufficio Agricoltura Biologica del Ministero nel corso del dibattito il presidente regionale della CIA Luigi Santoianni ha sollecitato la presenza di Granarolo sul territorio un'occasione per fare chiarezza sul progetto Granmanze previsto proprio sui terreni del Basso Molise ed ora andiamo a Venafro su iniziativa dell'ufficio scolastico regionale nel Castello Pandone è stato organizzato un seminario sulla legalità e i diritti umani inaugurata anche una mostra che ha coinvolto numerose scuole Sergio Di Vincenzo Sono state tante le scuole molisane che hanno aderito al progetto dedicato alla legalità e ai diritti umani i primi frutti del lavoro dei ragazzi ha prodotto una mostra interessante allestita al Castello Pandone di Venafro dove è stato organizzato anche un seminario una grandissima risposta si pensi che già un numero elevato di scuole ha aderito al percorso educativo che è sotteso a questa tematica producendo lavori prodotti creativi in genere non solo grafici ma anche multimediali ma anche pittorici in cui gli alunni hanno colto con la forza del sentimento la forza dell'intelletto ma anche la forza della sacralità di questo di questo tema hanno colto l'essenza per Anna Paola Tantucci presidente dell'EIP Italia associazione impegnata sul fronte dei diritti umani questi non sono concetti campati in aria e la scuola può fare molto per avviare i ragazzi verso un radicale cambio di mentalità i diritti umani non sono un'astrazione i diritti umani sono la vita di tutti i giorni il sapersi parlare saper relazionare saper ascoltare gli altri saper dibattere di idee diverse dalle proprie e purtroppo i media non ci danno un grande esempio se pensiamo ai dibattiti televisivi io credo che l'efficacia sia nella convinzione delle proprie idee dei propri ideali dei propri valori e la scuola in questo ha un compito veramente grande oggi tra i relatori anche Enzo Lefevre Cervini direttore a Budapest del centro di prevenzione internazionale dei genocidi riduce da un'esperienza in Siria abbiamo fornito un training ai rifugiati siriani un training molto particolare perché che si lega molto alla tematica del convegno di oggi a Venafro perché abbiamo voluto portare significati primordiali nella volontà di costruzione di una democrazia per il post Siria per il post Assad che sono appunto la diffusione di quei principi di democrazia di diritto ben oscuri nella società siriana a Diserni è stato inaugurato il punto di assistenza turistica dell'ACLI un'iniziativa gestita dai giovani del post e sostenuta economicamente dalla Camera di Commercio vediamo da oggi turisti che verranno a Isernia troveranno aperto e funzionante nel centro storico un punto d'accoglienza turistica dell'ACLI che potrà aiutarli nella conoscenza delle attrazioni culturali e artistiche dei santuari e dei musei del capologo Pentro qualcosa in più delle guide turistiche perché verranno offerti anche servizi di accompagnamento e assistenza alberghiera un'iniziativa di cui si sentiva il bisogno e che è stata realizzata in piazza Celestino V da una giovane Isernina con il sostegno economico della Camera di Commercio noi chiaramente siamo disponibili per tutti i giovani che vogliono fare come stiamo già facendo in Camera di Commercio aiutando molti giovani ad avviare delle attività questa è una di quelle nella quale crediamo moltissimo anche perché è nel settore turistico che è una delle cose dei settori nei quali noi puntiamo veramente per lo sviluppo del territorio e credo che questa possa essere una prima pietra per costruire la casa dell'accoglienza turistica che da noi purtroppo oggi non esiste proprio come settore ma l'asso nella manica del nuovo servizio di assistenza turistica è l'inserimento nella catena nazionale delle Acli che garantisce un flusso continuo di visitatori provenienti da tutta Italia è un'assoluta novità che arriva in Molise e fortunatamente arriva e si ferma di Sernia poi insomma con l'intenzione anche di aprire eventualmente su Campobasso un altro punto un'altra sede il centro turistico Acli è un circuito un circolo all'interno della grande associazione delle Acli che conta pensate in Italia 4 milioni di associati un circolo che organizza viaggi per i propri associati quindi che organizza il tempo libero dei propri associati a Sernia appunto lo abbiniamo alle informazioni turistiche dal momento che non c'è questo servizio di accoglienza e di organizzazione del tempo libero di quanti anche solo per poche ore trascorrono del tempo nella città questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale grazie per averci seguito a tutti voi una cordiale buonanotte grazie per aver guardato